La grande esperienza di Cortem Group, frutto di anni di ricerca e sviluppo di soluzioni sempre nuove e al passo con le richieste di un mercato molto esigente sotto il profilo della sicurezza, si manifesta in tutta la sua forza nei nostri uffici tecnici, dove ogni giorno prendono forma nuovi progetti per prodotti sempre più innovativi, sicuri ed affidabili. Sicurezza ed affidabilità che si toccano con mano nel laboratorio qualità, dove tutti i prodotti vengono testati severamente, tanto da meritarsi le certificazioni europee ATEX, internazionali IEC-EX e quelle IIC per l'Unione Doganale Euroasiatica. Il rispetto di queste severe norme costruttive, la competenza professionale del personale e le certificazioni aziendali del sistema qualitativo garantiscono la sicurezza di chi opera quotidianamente sugli impianti e la tutela dell'ambiente di lavoro. Grazie. Grazie.